Hanna! No! Hanna, ti prego! Mamma, che cosa hai fatto? Non riesco a dormire. E perché non riesci a dormire? Perché succederanno cose brutte. Dalle 21.47 c'è un blackout totale. Nessuna comunicazione in entrata o in uscita. Non abbiamo idea di cosa sia. Quello che ho provato subito dopo non riesco a descriverlo. Era come se fossi posseduta. Sento la vita crescere in me. Che ci piaccia o no, ci siamo dentro tutti. Lei voleva farmi del male. Non è quello che pensi. Non mi fido di loro. Ssssshh. 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 Sssshh. Sssshh. Grazie a tutti.